È stato aggredito e scippato in pieno giorno in mezzo alla strada nell'indifferenza generale. È successo alle 18.30 di ieri all'angolo tra via del Guado e via dell'Ortigara a Narnali. La vittima ha 73 anni. L'anziano stava camminando quando è stato avvicinato da un individuo in bici che poi l'ha sbattuto a terra per strappargli la collana d'oro che l'ultra settantenne portava al collo. A rendere più odiosa l'aggressione e l'assoluta indifferenza in cui si è consumata. Nonostante le urla dell'anziano, infatti, nessuno è intervenuto per fermare la violenza. Non solo. Quando lo scippatore è scappato, il 73enne Pratese si è rialzato e ha fermato un'auto per chiedere al suo conducente di inseguire il malvivente, fuggito via in bici. Ma l'automobilista non ne ha voluto sapere e ha ripreso la sua marcia. Raffica di tentati furti in città nella notte appena trascorsa. Il più grave nella zona della stazione, l'edicola anni Ottanta di via Giorgi, è stata presa di mira da tre giovani che hanno spaccato la vetrina d'ingresso usando un tombino. Il rumore ha richiamato l'attenzione di un anziano residente che si è messo a urlare e ha fatto scappare via la banda. Pochi minuti dopo i tre ci hanno riprovato ma l'anziana sentinella era ancora alla finestra e ha dato l'allarme. Stavolta i tre si sono dileguati e non sono più tornati. Resta il danno alla porta vetrina dell'edicola. In via Cavour raffica di furti ai garage di un condominio con la classica tecnica del buco vicino alla serratura della Saracinesca. Al momento manca l'appello, solo una bicicletta.